Fere, dove ci troviamo esattamente oggi? Ma è ovvio, Steph! Siamo in una bellissima corsa di Lucky Block tutta fatta di arcobaleno, ma cosa vuoi di più della vita? Cosa? Una Fere Cactus, ovviamente! Certo, sì, è compresa anche quella nella corsa, Steph! Che bella corsa che avremo oggi, allora! E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki! E so, Steph, che si gioca come a Minecraft! Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft con una bellissima Lucky Race, Steph! Oh, yes! Allora, prima di iniziare voglio giusto dire una cosa. Abbiamo già scelto una classe a testa che ci servirà a superare appunto questa gara terribile, perché sarà di quelle super difficili dove evochiamo cose davvero incredibili. Fere ha deciso di diventare un Cactus, di quelli proprio... Combattente! Un Cactus Combattente, sì! Ok, quindi Cactus Combattente, altrimenti è sbagliato. Che fa un sacco di danno! Mentre io, ovviamente, e mi sembra proprio logico, sono un albero. Guardate qua che bell'albero che sono! Vi spiego brevemente il mio potere. Il mio potere è quello di avere un sacco di blocchi extra da poter sfruttare per andare avanti. Mentre Fere ha molto più danno di me. Quindi lei spaca tutto, io invece bullo tutto e siamo una squadra terribile. Comunque partiamo, Fere. Ovviamente, io vado sul blu, tu vai sul rosa. Ok, benissimo. Siamo vicini. Siamo pronti? E quindi quello che fai tu inflierà anche su di me e viceversa. Forse sarebbe stato meglio stare ai due opposti. Sì, assolutamente lontano. Perché non vai nel rosso, Steph? Vai nel rosso. No, no. In realtà mi piace di più pure come colore, però secondo me è meglio stare vicini. Vado nel rosso? Dai, sì. Perché sai che succede? Che se tu fai un danno, puoi distruggere anche la mia corsia. Ma tranquilla, farò danni talmente grandi che prenderà qualsiasi posto del mondo. Andiamo. Sei pronto? Sì. Ovviamente la regola è che dobbiamo distruggere tutti i lucky block esistenti. Sei fatto buio, Steph. Sì, Fere. Nella mia visuale sei fatto... Credo che dovresti cercare di muoverti perché ti sei incastrata. Ah, ecco. Non l'avevo capito. Non premere destro né nulla perché lì potresti evocare qualcosa di molto brutto. Vado via, vado qui sotto. Beh, una rainbow lucky sword di quelle fortissime che sta... Fere, guarda quanto sbrillucica. Fai vedere? Sei gelosa? Qua, 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 guarda. Eh, sì. È bella, bella. Ma questa è una gara, quindi continuiamo. Furious Mask. Oh. Sono resistente al fuoco adesso. No, no, no. Cos'è successo? Lava. Ma quando è poi il prossimo checkpoint? Scusa che sto continuando a ritornare dall'inizio. Cadi. Che vuoi? Cadi. Ok. Non ce l'hai? Ok, dimmi che non so... Mamma mia, quanta poca vita ho. Un cuore e mezzo. Era fortissimo sto mob. No. Ok. Ho una spada che dai un colpo e fallano gli cento metri. Quindi ogni volta che evoco qualcosa riesco a buttarlo giù alla fine. Ok. Questa è pacifica. Poi devo passare di qui. Cioè, guardate le strade che devo fare per andare avanti. No. Io non riesco a tornare. Perché è pieno di roba in giro. È stra difficile. Ok. Io sto sopravvivendo un sacco di mob. Come ripasso dalla mia piscina di lava? Eh, potresti passare da qualche altro punto. Aspetta, aspetta. E poi continui a distruggere i tuoi blocchi. L'importante è che distruggi tutti i tuoi lucky blocchi. Non che passi sempre la tua strada. Ok. No, no. Ce la faccio. Ce la faccio. Avevo dei blocchi di ostidiana. Hai visto che bel pilastro che ho creato? Wow. Grazie. Prenditi il diamante. No, non c'ho voglia. No. 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 Che ti è successo? Guarda. Run fast, run lucky. Lucky. Grazie. Shoah. Uh. Aspetta, dobbiamo romperli però, Steph. Eh... Devi romperli. Ah, te li rompe quando passi. Vedi? Sì, 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 sì. Sicura? Vedi che ti vengono rotti. Sì, sì, sì. Ma io non riesco a stare dritto in questa roba. È un circuito di redstone che ti rompe i lucky. Sì, vabbè, ma nel mentre che tutto succede? Ah, non lo so. Beh, io ho evocato un po' di roba, ma sembra tutto ok. E mi raccomando, Steph, li devi rompere tutti perché è una delle regole più principali di questa gara. Io li ho evocato tutti. Oh. Sono salita sulle nuvole. Aiuto. Ho fatto la tua stessa cosa. Perché l'ho fatta? Volevo vedere cosa c'era di sotto. Capito? Anche io. Anche io ero curiosissimo. Corri, corri, corri. No, cos'è evocato? Non avevi neanche preso un checkpoint. Cos'è evocato, porca miseria? Non sei una cazzone, Steph. Corri, 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 corri. Solto! Ok. Checkpoint? Ok, ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono. Ma che cavolo è sta roba adesso? Non lo so, l'ho evocata io, non chiedo. Ah, ok, pensavo ci fosse nella mappa. Wind orb. Aiuto. Che ti succede, Steph? Boh, stavo provando a guardare un'arma strana, ma non ho capito che cosa dovrebbe essere. Ok. Stavo un enchanted golden apple. C'ho cose stranissime. Vabbè, pensiamo a correre. Ok, dov'è la mia strada? Non si vede nulla con le nuvole. Qui? Uh, bellina sta roba. Devo scendere nell'acqua? Oh. Bellina. E poi di nuovo di corsa? Sì, io non riesco a stare dritto, è difficilissimo. Fere, hai evocato cose brutte, io te lo dico. Davvero? Sì. Ma... Vuoi rivedere? Ma... Uh, lasciali lì. Ma no, dai, mi sono distratto un attimo, mi fa... Ma alla fine? Sì, possiamo andare lì? Dove? No, 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 no. Volevo andare in quel coso di fronte. Non ci sto capendo nulla. Steph. Dimmi. C'era il bottone. Ah. Ma è quello che penso, Fere? Tu di arena. Eh, non lo so, ci dovremmo sfidare. Ahà. Aspetta. Che c'è? Quindi sei qui a litigare con dei mob nell'arena, vai. Ok. Oh, no. Fere, non dovevi farlo. Eh, sì, invece... Vabbè, la mia spada è fortissima, eh. Anche la mia, anche la mia. Ah, vabbè, tu hai quella lucky, quindi... Ci vogliamo affrontare? No, volevo fare un'altra gara, Steph. Un'altra corsa. È durata poco questa. Facciamo un'altra. Facciamo una rissa, però. Ok, vai. Pronta? Aspetta, aspetta, aspetta. Non sono full vita. Stanno non vale, Steph. Sei pronto? Aspetta. Sei pronto? No, ormai aspetti. Via, 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 via. Questi sono i miei poteri incredibili. What's up? Ti ho buttato la lava. Sì, ma io sono in moon al fuoco. Porca miseria. No, io ho perso tempo per buttarti la lava. Basta. Me ne torno allo spawn. Come si va allo spawn adesso? C'è il tasto anche per quello. Ah, sì? Sì. Ti voglio introdurre questa gara, dato che questa l'ho scelta io. Ma questa è bella. Siamo in un laboratorio. L'ho visto. Ricordati sempre che Steph ha vinto la prima gara, perché ci tengo a precisarlo. No, l'ho vinta io. Siamo in un laboratorio. E qua, teoricamente, affrontiamo tutti i tipi di Lucky Block. Prima ne hai affrontato un solo tipo, Fere. E ho visto. Ora li affronti tutti. Oh, mamma mia. Sei preoccupata? È stranissimo. Vedi che ci sono cose davanti tipo di Lucky Block lì nelle pedane trascinanti. Sì. Oh, mamma mia. Io rivado sempre nel rosa. Da quello che so, è un laboratorio dove stanno studiando il Lucky Block perfetto. Ed è pure una gara, il che è fantastico. E poi ci capiterà di tutto, perché guarda quanti tipi ne abbiamo. Guarda. Prontà? Andiamo? 3, 2, 1, via. Ok, un altro. Fere, perché ho il mining fatigo e io? Ah, ah. Perché mi hai colpito. Come ti hai colpito? Fermi, fermi. Mi serve del latte. Ma che t'ho fatto? Prima, quando mi hai fettato, mi hai messo un mining fatigo, quindi praticamente io mino lentissimo per un sacco di tempo. Ma non è un problema mio. Sì, Fere. Arrangiati. Mi devi del latte. Eh, trovatelo. No. No, no. Dai, che noioso. Vado a chiederlo. Scusate. Te lo do io, Steph. C'è qualcuno. Lei, lei è uno scienziato, ha sicuramente del latte che usa per colazione. Che ha veleno, no, Steph, non li disturbare. Va bene. Ti danno il veleno, vieni a prendertelo, te l'ho buttato in terra. Smettila. Arrivo. Grazie. Sto benissimo, andiamo. Ok. Ok. Esplosione, ma sto benissimo. Perfetto, un libro, ma a me non interessa. Aiuto. Baby bomb boomers. Fere? Fere? C'è l'inferno? Sono per esplosa, Steph. Fere, c'è l'inferno? Ho evocato tipo dieci zombettini di quelli piccoli. Li vedo e mi stanno correndo addosso. Via, 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 via. Non sono dieci. Sono mille. No, Fere, hanno invaso pure gli scienziati. Hanno reso gli scienziati degli zombie. Ti odio, Steph, accidenti a te. Ma perché capitano sempre a me queste cose? Picchia. Come facciamo? Sono infiniti. Non lo so. Ma dai, ma tutte te le devi fare, queste cose. Io sto continuando a morire all'infinito. Picchia, Fere, picchia. Prima o poi finiscono. Eh sì, a voglia. Spero. E ora ci tocca uccidere pure gli scienziati, poracci. No, dai, li lasciamo lì. No, li scienziati lasciamo lì. Fere, aspetta, ce n'è ancora uno. Ma che cavolo. Picchia, 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 picchia. Arrangiati, finicitelo. Ma non ho più la spada, mi si è rotta. È tutto bucato. Io come faccio a raggiungere l'altra parte? Io corro. Un giro enorme. Nel caso picchiano a Fere. Allora avevo questo. Oh cavolo, cavolo. È pieno di zombie, anche zombie normali. Guardate quanti ce ne sono anche qui. Instant gear. Cosa ho usato? Ok, ok. Cosa mi è successo? Continuo a darmi un lucky block che mi dà un altro lucky block. Climb to the top for your reward. Anche a me l'ha detto. Ah no, è tuo, è tuo, è tuo. E cosa c'è qui sopra? Non lo so, Fere. Ma? Potete darmi una spada, vi prego. Ho rotto la mia. Vi scongiuro. Oh cavolo, Steph. Dimmi. È pieno di scienziati zombie. Ah, basta. Io per fortuna sono andato avanti. Uh, questa è la roba più forte della mia. Ah beh, certo, hai lasciato tutto a me, disgraziato. Live il potion. No, 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 no. Con questa ci divertiamo. Ta, 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 ta. Fere tutto bene, sì. No, sta andando malissimo. C'è ogni lucky block è peggio dell'altro per me. Lo so. Ho avvocato di ghast che hanno invaso tutto quanto. C'è un buco enorme qui in mezzo. Non riesco a tornare dove sei tu, penso che non tornerò mai più. Io sento dei versi strani. Sono i ghast. Quanti sono esattamente, scusami. Per fortuna che sono nella parte di vetro e non mi possono colpire. Ah. Perché altrimenti era un bel problema. Non riesco, perché poi sono anche costretta a spaccare i lucky block che giustamente lascio indietro, capisci? No, non fa neanche a rientrare, è tutto bucato, Steph. Eh, ti servirebbero i miei blocchi, ma io ormai sono qua, sicuro. Eh sì, però purtroppo io sono un combattente e i blocchi non ne ho. Ho solo un blocco di quattro. Che belli combattenti, mi piacciono proprio. No, 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 questo posto è strano. E poi come fa? No. Aiuto. No. No, non avete capito nulla. Non avete capito nulla voi. No, no, no. Ce la faccio, ce la faccio. Corro. Ok, ok. Via. Fatemi tappare. Dov'è? Dov'è il buco? Non lo vedo più. Qua, tappa. Via. Mangia carotina. Fere, ma com'hai fatto a raggiungermi nel mentre? Eh, sto spaccando tutto, velocissimo. Uh, ho trovato un botto di stelline. Chef chest. Carine. Checkpoint. Ti prego, ho qualcosa per picconare perché tu è tutto rotto. Anche io ho questo problema. Non ho mai un piccone e ti trovi cose di fronte che devi distruggere. Devo rompere della clea manino. Cos'è questo? Ti capisco. Baby toffer, aiuto. Ti capisco, sorella, ti capisco. Ma che sorella. Allora, venti diamanti e polletti. Poi fiori. Ops. Beh, i fiori vanno bene. Stef, mi serve aiuto. Perché? Qui è tutto rotto. E quindi? Eh, mi devi fare una strada. Ho dei blocchi, qualsiasi cosa che posso usare come un blocco, no? Aspetta. Aspetta. Oddio la TNT, mi posso fare una strada di TNT? Molto sicura, Fer. Eh, pazienza. Allora. Ce la faccio. Ce la faccio. Ce la fai? Sì. Sicura? Guarda. Vabbè, mi sono avuto incastrato, non ti posso dare la mano. Arrivederci. Allora, lo devo distruggere? Ho letto un get wrecked. Allora, avevo un lucky block di fronte. Ok. Che dovevo giustamente distruggere in questa corsa. Mi ha fatto una pioggia di TNT. Dopo la TNT che avevi già anche evocato. Immagino che ci sarà un sacco di strada che potrei percorrere ora. Oltretutto, la strada che devo percorrere è quella sempre piena di gas, che è sempre più bucata, perché giustamente loro cercano di uccidermi e distruggono il pavimento. Ma tu qua ti stai perdendo delle cose spettacolari, ci sono delle gabbie dove hanno fatto gli esperimenti sui lucky block e hanno la testa dei lucky block e sono dei mostri, però. È troppo bellino, ti stai perdendo roba fantastica, questa gara è bellissima. Banner, va bene, li posso accettare. Astral Mercant. Se ti dessi 15 Astral Drawing Star, che sono quelle che hai tu... Io ce li ho. Ce li ho. Fare da delle cose incredibili. Aspetta, no! Se avessi un altro cookies Astral mi darebbe della roba. Fare! Dimmi! Posso venire un attimo da te? No! Ti prego, ti devo far vedere il mio nuovo potere. Ok, fai vedere. Allora, aspetta, devo spaccare tutti i vetri. Arriva, 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 arriva. Spero che queste cavie non siano cattive. No, ma siamo così lontani. Eccoti, eccoti. Allora, sei pronta? Sì, più o meno, non so cosa sia. Vedimi i stivali? Sì. Sei felice? Sì! Ti sentirei una persona felice. Oh no! Vedi, io in questo momento posso volare e non ho problemi. Oh cavolo. Oh cavolo. Mi sa che le cavie le ho scatenate, Fere. Se ti arriva qualcosa addosso che è un po' strano è colpa mia. Ho già duemila ragni addosso. Tranquillo, Steph. Che vuoi che sia. Che vuoi che sia. Bloccatelo! Ai, è cattivissimo. Distruggiti. No, mi sono arrivati i tuoi ragni. Ti odio. Ti odio, non voglio morire. Ti prego, non morire, Steph. Ti prego, ti prego, ti prego. Perché non faccio danno con questo stick? Porca miseria. Perché? Mangiati la mela prima di morire. Ok, ok. Continua ad andare. Continua ad andare. Volare mi sarà utile in questo momento. Ma se io facessi una cosa tipo che volo. E nel mentre distruggere il lucky block. Secondo voi funziona? Non lo so. Sono rimasto incastrato. Giant night sword. Ok, questa è mia. Questa. Eh, vabbè. Fede? Qualcuno vuole mi sticciare? No, no. Sicura? Sono ancora intrappolata qui con i ragni. Che vuoi che ci faccio? Ok, ok. Io continuo a volare. Oh, cavolo. Per favore, casa di slime. No, 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 no. Ok. Via, via. Vai, Steph. Vai, Steph. Secondo me siamo vicini alla fine, comunque. Sì, probabile. Non sono troppo lunghe come gare, quindi ci sta. Questo è un piccone? The ultra tool. Sì. Perfetto, 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 perfetto. Stavo avendo una fortuna incredibile. Io sono ancora... Ho appena finito di... Di fare i ragni, Steph. Hai rincastrato ancora con i ragni? Sì, purtroppo sì. Bene. Ti do una mano. Mancherà tanto. Era finita. Sì, sì. Vabbè, guarda, ho avuto sfiga e basta in sta corsa. Con i lucky non sei molto lucky, tu. No, ma proprio unlucky. Vieni dall'arena, va? Ti faccio vedere un po'. È stata una faticaccia. Mi sento stanca, guarda. Allora, prima di tutto, guarda come suolazza Steph. Cos'è? La mia testa. Fere. Vuoi vederla sui mob? Cos'è sto coso? Ci penso io. Vai. È bella. È bella, ci penso io. Tu evoca e basta mob. Vado, vado. Vai. Sono pronto. Sono tantissimi, eh. Fere, non c'è problema. Ma sono già tutti morti. È troppo forte questa spada. Bellissima, bellissima. È troppo forte. No, Steph, non lo devi fare. Beh, beh, beh. Dopo che mi è andato tutto male, non lo dovevi fare. Smettila. Ben, Mickey was lane by Stephen Magnifico using Giant Knight Sword. No, meno male che sei felice tu, guarda. Ma sono felicissimo. Sono state bellissime queste gare. Mi piacciono un sacco. No, sono brutte. Ragazzi, lasciateci un like. La nostra prima volta che avete un altro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdere gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.